Ancora polemiche e critiche a Teramo da parte dell'opposizione di centrodestra sul cosiddetto PUMS, il piano traffico contestato sin dalle origini dall'opposizione, capitanata da Carlo Antonetti che non usa mezzi termini per quel che riguarda il futuro di questa idea dell'amministrazione d'Alberto. Il PUMS va annullato perché è inutile mettere le mani su una cosa che è estranea completamente alle dinamiche di questa città, che non risponde a delle esigenze vere, quindi parliamo prima delle esigenze, parliamo prima di cosa vogliamo fare di Teramo e poi parleremo del PUMS, che peraltro non è obbligatorio in una città sotto a 100.000 abitanti. Insomma, c'è una bella confusione grave, giustamente i cittadini, i residenti, i commercianti, i professionisti, perché qui viene investita la città di Teramo, non solo i commercianti, hanno giustamente alzato la voce, adesso il sindaco probabilmente fa finta, come al solito, di retrocedere, di dire ma no, ma è un piccolo disegno, poi ne parleremo, no. Questo è un documento, è vero che si possono fare osservazioni, ma a nostro avviso questo deve essere completamente annullato, rivisto e discorso insieme. Lo stesso Antonetti poi conferma l'unità dell'opposizione, non solo su questo punto, dopo i tanti problemi scaturiti e generati ad inizio consigliatura. Compatta, ma devo dire che in tutto quello che stiamo facendo in questo primo periodo di amministrazione, di consigliatura, abbiamo avuto sempre delle posizioni lineari, coerenti con gli interessi dei cittadini, d'accordo, e soprattutto, peraltro, annunciano sempre queste cose come se fossero nuove, ma questa era una cosa già prevista da prima, cioè non è una novità, così come era una novità il discorso del vecchio stadio, per il quale ci sarà tanto da discutere, e quindi stiamo parlando di cose che lanciano per far vedere probabilmente che stanno muovendosi, ma veramente la città è ferma, loro sono fermi e 200 giorni di niente fanno molto male ai cittadini.